Adesso parlerà il professor Olle Johansson, che è professore alla Karolinska Institute, il prestigioso istituto di medicina di Stoccolma, la fabbrica dei premi Nobel della medicina, e quindi lascio a lui la parola. Sono molto lieto del fatto che gli organizzatori abbiano fatto un lavoro così meraviglioso. Vorrei anche ringraziare tutti i cittadini di Potenza Picena che ci hanno invitati in questo bellissimo edificio, in questa bellissima cittadina. Come avete sentito io lavoro all'Istituto Karolinska, nell'ambito del quale noi abbiamo a che fare con dei fisiologi, con degli esperti che hanno vinto numerosi premi Nobel e ci occupiamo di diverse tecniche, perché l'economia svedese in effetti ha guadagnato molto, soprattutto dallo sviluppo di tecnologie come quella dei telefoni cellulari, ma anche di altre tecnologie come per esempio quella dei radar. In Svezia spesso si trovano dei tabloid come questi che si basano sugli effetti dell'utilizzo di telefoni cellulari, che indicano il fatto che i ricercatori svedesi richiedono urgentemente delle azioni perché si stanno rendendo conto del fatto che ci possono essere dei danni cerebrali. Io stesso, tempo fa, avevo scritto un articolo su un famoso giornale svedese nell'ambito del quale avevo parlato dei danni che possono derivare dall'utilizzo di questi strumenti e quindi avevo posto alcune domande. Sfortunatamente gran parte di queste domande non hanno ancora trovato risposta. Però oggi mi rendo conto che tutti i miei colleghi qui presenti oggi hanno prodotto dei dati veramente eccezionali. Per riassumerli potrei semplicemente dire che le persone che abitano a Potenza Piccola vi direi tranquillamente dovete agire, dovete decidere da voi se appunto pensate che sia più opportuno fidarvi degli scienziati che sono qui oggi o gli altri o altre persone. E il vostro sindaco ha detto prima che per lui la salute e l'ambiente ha detto appunto il sindaco che per lui la salute e l'ambiente sono la priorità numero uno. Quindi ovviamente direi che dipende da lui, dipende da lui se in questo caso specifico sia opportuno o meno dire la verità. Già nell'83, quando gran parte di voi probabilmente non era neanche nata, io ho coniato un'espressione che in realtà è stata utilizzata molto spesso, che ha fatto il giro del mondo, detto che l'esposizione a diversi campi elettromagnetici rappresenta l'esperimento su vasta scala, più grande del genere, perché ovviamente va 24 ore al giorno e quindi consente, fa sì che appunto i nostri bambini vengano utilizzati come dei topi da laboratorio su cui condurre degli esperimenti. E ho riposto questa domanda, ho riposto questa domanda continuamente e la ripeto anche qui nel 2013 e sinceramente per dirvi la verità sono abbastanza stanco perché questa domanda l'ho posta a tante persone diverse che occupavano posti di potere e ancora non ho ricevuto delle risposte decenti. Però credo che oggi io abbia ricevuto tante informazioni utili e se vivessi a potenza piccena sicuramente mi preoccuperei. Abbiamo evidenziato come scienziati che queste linee guida non venivano appunto utilizzate perché spesso e volentieri gli scienziati non venivano presi in considerazione e comunque avevano evidenziato dei dati importanti, drammatici, degli effetti drammatici per esempio relativi alla proliferazione delle cellule piuttosto che alle influenze nel valore del calcio, alla diminuzione nei modelli appunto alimentari eccetera. Quindi ci sono tantissimi articoli che sono stati pubblicati che evidenziano che appunto le microonde producono degli effetti acuti e a lungo termine di tipo drammatico, drammatici sulla salute. Dunque l'Italia è il paese numero uno per gli svedesi, gli svedesi amano l'Italia, questo perché già nel 2006 c'è stato un incontro a Benevento vicino a Napoli e in quell'occasione abbiamo redatto una risoluzione che è stata poi pubblicata nell'ambito di un giornale scientifico peer review, nell'ambito del quale si è detto appunto che ci sono tanti argomenti che indicano che appunto i sistemi, diciamo le argomentazioni che vanno a limitare i campi elettromagnetici devono essere prese in considerazione e che ovviamente nell'ambito dell'Unione Europea devono essere utilizzati dei principi relativi alla necessità appunto di informare la popolazione. La popolazione deve sapere tutto su questo. Abbiamo anche detto che l'esposizione dei bambini evidenzia che l'esposizione dei bambini deve essere evitata e anche che le compagnie telefoniche non dovrebbero fare attività di marketing nei loro confronti. Questa discussione ha riguardato tutti i tipi di microonde, comprese le microonde che provengono dai radar. L'anno successivo nel 2007 abbiamo prodotto un volume di circa 600 pagine con circa 2000 riferimenti scientifici. In sintesi il contenuto evidenziava che le linee guida tecniche non possono essere utilizzate e devono essere sostituite con dei dati, con degli standard su base scientifica e biologica. Il Parlamento dell'Unione Europea ha ascoltato molto attentamente e in effetti ha redatto questo volume e ha giunto alla conclusione che i limiti di esposizione attuali in effetti sono obsoleti e che quindi debbono essere sostituiti. Il fatto è che gli italiani parlano così velocemente, quindi anche io ho cercato di mantenere lo stesso livello di velocità degli italiani, scusatemi. Dunque, l'anno successivo, parliamo dell'anno successivo, a Londra nel 2009 è stato pubblicato questo articolo da parte di un gruppo di scienziati, si è trattato della risoluzione di Londra, nell'ambito della quale si è detto che sulla base del principio di precauzione i bambini e i gruppi vulnerabili, per esempio le persone affette da epilessia o patologie cardiopatiche, cardiopatie, non dovrebbero essere esposte a rischi di questo tipo, a rischi dannosi. Si è anche detto che non dovevano essere utilizzati sistemi wireless all'interno delle case, delle scuole e delle aree pubbliche e ovviamente che anche le vostre case non dovrebbero essere invase da fonti di esposizione esterna come quella radar. Abbiamo poi continuato il nostro lavoro, ci siamo incontrati in Norvegia e a Seletun e abbiamo lavorato per una serie di giorni e mesi per produrre poi un'altra risoluzione. Si tratta di un'affermazione, di una dichiarazione che vede la partecipazione di una serie di scienziati, quelli elencati nella diapositiva e si è concluso anche in questo caso che gli bioeffetti non termici a bassa intensità e gli effetti sulla salute negativi sono dimostrati a livelli che sono significativamente al di sotto degli standard esistenti. Abbiamo anche potuto concludere che delle linee guida le linee guida utilizzate non potevano più essere utilizzate perché obsolete e che dovevano essere utilizzate da standard nuovi sulla base, basati diciamo su studi scientifici e che non è nell'interesse pubblico il fatto di attendere ulteriormente per cui bisogna agire, bisogna agire ora perché domani potrebbe essere troppo tardi. In questa dichiarazione abbiamo affermato che la popolazione del mondo non è sufficientemente protetta, abbiamo affermato che le popolazioni sensibili potrebbero essere ulteriormente vulnerabili ai rischi della salute e ancora una volta abbiamo evidenziato il fatto che occorre adottare dei principi prudenti come per esempio principi di precauzione per la protezione della salute che bisogna appunto ricordare che questi principi di precauzione ovviamente spesso e volentieri non richiede, genera il sospetto diciamo, che a volte è sufficiente il sospetto per far sì che venga adottato il principio di precauzione e questo rappresenta appunto un ambito molto importante, questo è previsto dalla giurisprudenza europea quindi questo potrebbe essere un modo che i cittadini locali potrebbero utilizzare per far sì che la loro voce venga ascoltata. Abbiamo anche affermato che degli standard di sicurezza per così dire meno restrittivi dovrebbero essere utilizzati e che dovrebbero essere istituiti dei registri internazionali per andare a tracciare quella che è l'incidenza, la mortalità per esempio del cancro o delle malattie neurologiche delle patologie neurologiche. Voi avete già iniziato a fare questo tipo di lavoro in questa zona e questo, devo ammettere, è un tipo di attività veramente impressionante. Abbiamo anche affermato che sono necessarie delle valutazioni obbligatorie prima della commercializzazione delle emissioni e dei rischi prima di utilizzare nuove tecnologie wireless. Questo significa che c'è qualcuno che deve prendersi la responsabilità di andare a dimostrare che la nuova tecnologia, come per esempio la nuova tecnologia del radar, si assicura al 100%. Abbiamo anche concluso che ci debbono essere dei limiti numerici, quelli relativi appunto agli standard biologici, che sono ancora un miliardo di volte più elevati di quelli dei livelli dei campi elettromagnetici. Una domanda che potete porvi è se avete bisogno di nuovi orientamenti, nuove linee guida o se avete bisogno di sicurezza. Oggi avete sentito tutta una serie di orientamenti e il loro contenuto e tutta una serie di raccomandazioni, per esempio quelle relative alle raccomandazioni dell'ICNERP che affermano che è sicuro se sia al di sotto dei 9 milioni di micro watt per metro quadrato. E ce ne sono state anche altre, altre raccomandazioni nella diapositiva. Vedete per esempio mille micro watt per metro quadrato del rapporto sulla bio iniziativa del 2007. Poi la dichiarazione Seleton che ha parlato di 170 micro watt per metro quadrato. E addirittura un aggiornamento del rapporto sulla bio iniziativa che ha parlato di te 3 micro watt. Ma per quanto ne sappia io c'è solamente un unico livello di sicurezza che è l'unico valido in questo pianeta. L'ho già evidenziato, proposto nel 1997. Ho affermato appunto che bisogna considerare il contesto naturale come il contesto più sicuro, i valori naturali. Questo significa che bisogna abbassare lo standard di esposizione di una maniera, in modo significativo e significa anche che non potete più utilizzare i sistemi radar a fini militari, ma che dovete per così dire fidarvi di Gesù Cristo sulla croce ed essere carini gli uni con gli altri, non uccidervi con le armi. Questo rappresenterebbe un vero e proprio cambiamento all'interno della società. Ma ovviamente si tratta di un livello direi abbastanza sicuro, sicuramente certo. Infine, non credete che i sistemi che si basano sulle emissioni di microonde per il controllo via radar, i telefoni cellulari o wifi siano sicuri, perché non lo sono. Ci sono tantissimi studi scientifici che lo dimostrano e vi direi anche di non fidarvi di me, di non fidarmi di tutte queste persone che siedono al tavolo. Fidatevi di voi stessi, andate su internet, scaricatevi del materiale, leggetevelo e fatevi una vostra opinione, una vostra opinione personale per voi, per vostra moglie, per i vostri figli, per la vostra famiglia. Chiedetevi se volete avere questo livello di esposizione nelle vostre case o no. E sulla base di questo dato potete cominciare ad agire. L'avete già fatto per tanti anni, lo fate già da tanti anni. Per cui sono, devo dire, sono veramente impressionato da quanto avete fatto. Però ovviamente potete continuare a farlo. Dovete anche ricordarvi del fatto che i governi e le agenzie preposte alla protezione della salute spesso e volentieri si nascondono dietro delle linee guida ufficiali datate, che sono state redate quando si pensava che l'unico modo in cui gli organismi viventi potessero essere danneggiati dalle radiazioni elettromagnetiche fosse una protezione in cui appunto queste radiazioni fossero sufficientemente forti e monitorate come se all'interno di pupazzetti di plastica. In realtà noi non siamo dei pupazzetti di plastica, siamo degli esseri umani viventi. Quindi l'interazione dei campi elettromagnetici con le cellule, molecole, eccetera, è stata affrontata e trattata molto bene oggi. Non ha niente a che fare con dei modelli di plastica. Credo che Potenza Picena debba veramente produrre la propria risoluzione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie! 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 Grazie Officer Johanson! I would like only to remember that the early proposal for the ceiling value of 1 mw per è dalla risoluzione di Salzburg a giugno 2000, non dalla Bioinitiative. No, sono state fatte alcune pubblicazioni e quello che vorrei dire è che se vi è piaciuta la risoluzione dovreste tentare di pubblicarla all'interno di riviste scientifiche. Ma la risoluzione di Salzburgo è stata pubblicata dall'autorità per la salute di Salzburgo e questo ovviamente è un documento ufficiale delle autorità sanitarie di Salzburgo. Grazie mille.